Sbloccati dall'assessorato regionale alla famiglia e bonus sociosanitari, si tratta dei contributi di 882 euro alle famiglie numerose dell'isola che vengono assegnati in virtù di un accordo sottoscritto tra il Dipartimento Nazionale per le Politiche della Famiglia e il Ministero della Salute. L'iter era stato bloccato a seguito di un ricorso dell'Associazione Nazionale Famiglie Numerose di Agrigento che contestava i criteri di partecipazione al bando pubblicato nell'agosto del 2008 come il requisito della minoretà per i figli. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha però bocciato il ricorso dopo che il TAR lo aveva accolto. Sono così 239 nuclei familiari della provincia di Agrigento che hanno avuto riconosciuta la richiesta del bonus. Nel territorio provinciale il Comune di Palma di Montechiara ha ad avere il numero maggiore di cittadini che hanno ottenuto il bonus, ben 51, a seguire Licata con 48 richieste accolte, Canicattì con 36, Favara con 30 e Agrigento con 29 istanze.